In questo caso per dissipare i dubbi sul fatto che possa essere figlio dell'indagato. Diciamo che questo è un particolare che nella dinamica dell'indagine ha la sua importanza e verrà chiarito. È uno dei nodi da sciogliere, dice il procuratore Martani, capire cioè se Buierfandai fosse il padre del bambino che Vanessa Ballan portava in grembo. Per questo l'autopsia che verrà affidata nelle prossime ore sarà collegiale, una sul corpo della donna, un'altra sul feto con prova del DNA. C'è poi l'elemento soggettivo da appurare. Noi non siamo in grado in questo momento di dire se lui sapeva o meno che la donna era incinta. Diciamo che la notizia era uscita dall'ambito strettamente familiare perché era da qualche giorno in maternità e assente per maternità a rischio. Chiaro che la procura si stia concentrando sulla relazione tra Vanessa e Buier, sfociata nello stalking e le minacce di lui, l'ultimo episodio in ottobre. Lui è entrato nel supermercato, ha fatto un acquisto modesto, probabilmente era un pretesto per entrare e vederlo e poi l'ha insultata e l'ha lanciato queste monetine. E poi messaggi continui. Non solo il Kosovaro prospettava la donna di trasmettere al compagno Nicola video intimi, ma avrebbe anche preteso incontri sessuali. E questo fino alla denuncia del 26 ottobre scorso, quando nella casa del Kosovaro scatta la perquisizione. In bella mostra anche una foto che ritrae Buier, Vanessa e il figlioletto di quattro anni. Uno che la vede pensa che quella sia la famigliola. Buier voleva una famiglia con Vanessa. Esattamente. Il motivo della rottura della relazione tra Bujar e Vanessa è che Bujar non si accontentava di essere l'amante, ma voleva che Vanessa andasse a vivere con lui. L'altro aspetto riguarda la mancata richiesta da parte del PM titolare del fascicolo di misure cautelari in occasione della denuncia per stalking, con lo stesso sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari che chiede al ministero di fare degli accertamenti interni. La posizione del procuratore capo su questo punto è chiara. Secondo me quello era un caso in cui la misura del divieto di avvicinamento era da chiedere, ma con la stessa sincerità dico che non è affatto scontato che quella misura lo avrebbe trattenuto dall'ucciderla. Dal 9 dicembre, aggiunge Martani, sono entrate in vigore le nuove regole del Codice Rosso, con il PM che d'ora in poi dovrà motivare anche nel caso di mancata richiesta di misure cautelari, con la supervisione finale dello stesso procuratore capo. Un cambio di passo procedurale e sostanziale, ma restano i risvolti umani. Il mio profondo dolore per quanto è successo e le mie condoglianze alla famiglia, assolutamente, assolutamente. Questo è terribile, non ci sono altre parole per definirlo.